Buongiorno e benvenuti in questo momento culturale importante per il settore cultura, per la nostra biblioteca, in compagnia dell'assessora, nostra assessora alla cultura Alessandra Magro che ci aprirà un po' questo momento importante. Buongiorno assessora. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Sì, oggi inauguriamo una nuova rassegna organizzata dall'assessorato alla cultura e alla cooperazione internazionale che si intitola Sesto e il mondo, che ci accompagnerà in diversi appuntamenti e che ha l'obiettivo di farci conoscere un po' più da vicino diversi paesi al di fuori dell'Italia e di conoscere meglio gli aspetti socio-culturali politici, di queste realtà diverse dalla nostra. Lo faremo in un modo un po' diverso dal solito, lo faremo tramite eventi culturali, rassegne, presentazione di lì, incontri con anche figure istituzionali e quindi anche con persone che si trovano a vivere in quel contesto e quindi vivendo tutti i giorni quel paese magari possono portare sicuramente un valore aggiunto e un contributo maggiore. mi corre l'obbligo di fare un po' di ringraziamenti visto che siamo in apertura di questa nuova iniziativa e quindi iniziamo con ringraziare calorosamente la libreria Taranto, la libreria del territorio che ci sostiene in numerose iniziative e attività e un ringraziamento particolare va anche al consolato giapponese per aver patrocinato la nostra iniziativa e alla casa editrice del libro che andiamo oggi a presentare quindi il libro di Tommaso Scotti l'ombrello dell'imperatore con la casa editrice appunto longanesi. Un ringraziamento che non può mancare è quello alla nostra biblioteca comunale all'ufficio cultura che quotidianamente lavorano ai numerosi eventi che poi rendiamo fruibili per la cittadinanza vista anche la complessità del periodo per fortuna oggi iniziamo a vedere un po' alla luce in fondo al tunnel però insomma è ancora più difficile lavorare e portare avanti tutte le iniziative culturali in un contesto di questo tipo. A questo proposito devo dire che sono particolarmente contenta di aprire questa rassegna con uno scrittore italiano giovane perché è proprio come si diceva anche ai telegiornali nei giorni passati questa è la fase della ripartenza e la riapertura e ripartire giovani io penso che sia un valore aggiunto l'ho sempre detto nei momenti di difficoltà sono state sono e saranno le nuove generazioni a a contribuire al rilancio e alla ripartenza dei nostri territori e quindi ricominciare oggi con una rassegna nuova e farlo con uno scrittore giovane credo che sia un un passo importante di buona ospita anche e quindi ringrazio tutti voi che volete seguire questa nuova iniziativa della nostra amministrazione grazie 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 assessore e allora per procediamo immediatamente l'ho anticipato lei assessore abbiamo in collegamento da Tokyo il il nostro autore Tommaso Scotti ma abbiamo anche che curerà l'intervista i Paola Malcangio direttrice responsabile del settore e cultura beh di tanti servizi per oggi la la blindiamo con il settore cultura buongiorno a tutte e due buongiorno 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 Tommaso buon pomeriggio perché so che sono le diciasse diciotto diciotto e quattro ecco qua allora iniziamo con una breve descrizione, Tommaso Scotti, 1984, è fondamentale la sua data di nascita perché è giovanissimo, laurea in matematica, segue una passione che è quella delle arti marziali e decide di trasferirsi, dopo esperienze anche in Europa, ma decide di trasferirsi in Cina seguendo questa passione. Poi apprezza i posti, viaggia e visita il Giappone, il primo viaggio dieci giorni e poi decide di andarci a vivere e di trasferirsi in Giappone. Vince, ha conseguito un dottorato di ricerca a Tokyo e adesso è lì che lavora. Ma Tommaso Scotti è arrivato alla scrittura con un romanzo, è arrivato anche alla nostra attenzione con un, devo dirlo, un meraviglioso romanzo che ci ha preso dalla prima fino all'ultima parte. Non vedevamo l'ora di chiuderla questa cosa. Passo però un secondo la parola a Paola che approfondisce. Allora Tommaso, buongiorno. Quando ho letto che sei un matematico mi è venuta in mente la frase, una citazione di un altro matematico, John von Neumann, che dice se la gente non crede che la matematica sia semplice è soltanto perché non si rende conto di quanto sia complicata la vita. Allora ti chiedo, la matematica per te non era abbastanza complicata, hai voluto cimentarti in un thriller. Come mai? Come mai? La scrittura è una scrittura di un thriller, quindi di una qualcosa di complesso. Perché? Bella domanda. Allora, scrivere mi è un po' sempre piaciuto. Prima cosa, anche se non ho mai, prima di questo non ho mai scritto niente di, diciamo, complesso come un intero romanzo. Ecco, piccole cose, storie. Magari mandavo delle, a volte soprattutto quando ero da poco e mi ero trasferito all'estero, mandavo delle lunghe email a un gruppo di amici e parenti, un po', diciamo, email un po' narrative, se vogliamo mettere così, per raccontare quello che mi succedeva così. E poi niente, semplicemente in realtà ho avuto quest'idea già tanto tempo fa di questa storia, più che altro dell'ombrello, di questo ombrello che passa per tante mani diverse. Mi piace, siccome mi piace descrivere le persone, mi piace parlare della gente, insomma, mi piace immaginarmi le vite delle persone così, mi piace questa idea di descrivere un po' il Giappone attraverso una serie di personaggi, un po' stereotipi, quindi racchiudere in ognuno un po' una caratteristica del Giappone di oggi e collegarli tutti tramite un oggetto qualsiasi, non potessero un ombrello del genere, perché effettivamente sono ombrelli che passano di mano molto facilmente, si pesano un po' degli user e getta, quindi la gente li compra da una parte, poi se li dimentica, si scambiano perché sono un po' tutti uguali, quindi magari fuori dal supermercato si prende quello di qualcun altro e così via. Quindi quell'idea l'ho avuta già tanto tempo fa e mi è andata a descriverla. Poi l'idea del giallo del thriller è nata successivamente, nel senso che quando per tanti anni quest'idea è rimasta un'idea, cioè una cosa che cavolà, diciamo prima o poi lo faccio, poi la scrivo, poi tra il famoso dire il mare e se dire il fare, cioè di mezzo del famoso mare, ed è rimasta sempre una cosa così, un'idea nella mia testa. Poi quando ho deciso effettivamente di mettermi a scriverla, ho pensato che forse fare solo un passaggio di mani di un ombrello, così per quanto potesse essere interessante per certe cose, far vedere un po' il Giappone, magari rimaneva un po' così fine a se stesso, ho pensato, diceva beh, alla fine qual è il punto, poi non che debba necessariamente esserci un punto, ma allora mi sono chiesto proprio un po' così, in maniera un po' naiva, ma proviamo a mettere tutto dentro un giallo, cioè facciamo che questo ombrello sia, venga ritrovato sulla scena di un crimine e poi proviamo a collegare le cose un po' così, mettere insieme le due cose. Ed è quella stata un po' la sfida, diciamo, perché non era, non si è arrivata una cosa effettivamente troppo semplice. Però sì, più che il libro è sicuramente un giallo, si può dire un thriller in un certo senso, perché c'è tutta una parcia, c'è un omicidio, c'è un morto, è un ispettore che indaga, quindi diciamo che sicuramente è quello. Però ecco, quello che ho provato a metterci dietro è anche un po' di più, c'è anche un po' questa storia di tante vite che si interziano, che se uno si va a leggere solo i capitoli pari, per esempio, dispari di libro, non c'è niente, non c'è un omicidio, sono storie di persone, quindi ecco, un po' metterci dentro una sorta di coralità in un certo senso, se si può dire. Allora, l'ispettore Takeshi Nishida della squadra omicidi della polizia di Tokyo ha un secondo nome che pochi conoscono, ma che dice molto di lui, all'anagrafe infatti è Takeshi James Nishida, perché Nishida è un affu, un mezzosanque, padre giapponese e madre americana. Nishida è eccezionale nel suo lavoro, lo dimostra il numero di indagini che riesce sempre a risolvere, fino al caso dell'ombrello, un uomo ritrovato morto. L'arma del delitto ha l'apparenza un comunissimo ombrello di plastica di pochi yen, di quelli che tutti usano, tutti smarriscono e tutti riprendono da qualche parte. Ma questo ombrello ha qualcosa che lo differenzia dagli altri, un piccolo cerchio rosso dipinto sul manico e soprattutto un'impronta. Mamma mia, iniziare così, posso dire una cosa, posso dire una cosa, mi sembra molto matematico il fatto che ci ha svelato, perché io poi l'ho seguito, ti ho seguito anche in altre interviste, però la storia del pari e del disperi dei capitoli, questa cosa qua la vedo molto vicina alla tua effettivo, come dire, essere. In realtà un po' quello, un po' in realtà la mia voglia di racchiudere una sorta di dualità in tutto il libro, che è un po' nascosta dall'inizio alla fine, cioè c'è tutta una circolarità nel libro che è un po' un omaggio in realtà al daoismo e alcune filosofie orientali di un certo tipo, perché per esempio la fine e l'inizio del libro, se poi uno va a vedere, è molto circolare, non si può, non si potrebbe iniziare dalla fine come dall'inizio. E poi appunto ci sono, è un po' un libro dentro al libro, nel senso che se uno può leggere solo i capitoli dispari e seguire una storia, solo vi li pari seguire un'altra, però allo stesso tempo, insomma, entrambi i due filoni, cioè quel giro dell'ombrello e l'omicidio, hanno un po' comunque sempre bisogno uno dell'altro per avere un senso completo. Quindi in realtà quella struttura particolare c'è un po', sì c'è un po' forse di matematica di quel tipo di racconto, ma anche un po' di, è molto volutamente un omaggio al daoismo. Io ti faccio una domanda su Tageshi, è un mezzo sangue, la mamma è italiana, qui fan fact, si chiama Claire Di Stefano come il nostro sindaco, Roberto Di Stefano, sindaco di testo San Giovanni che salutiamo. La madre americana, la madre americana. La madre americana ma ha un nonno di un immigrato italiano. Tu quando descrivi l'ispettore ce lo fai proprio visualizzare perché dici alto un metro e novanta, è forte come un toro, ha una somiglianza con l'attore Tommy Lee Jones, ha un carattere particolare perché è un carattere sbrigativo, è ruvido come persona, ovviamente intelligente, intuitivo, molto molto agile nella sua intagine ed è un dolore, è un uomo che nasconde anche un dolore personale perché ha una ex moglie alla quale è stata affidata la bambina che lui non riesce a vedere. Quindi un personaggio complesso che ci ispira subito simpatia nel lettore. Ti volevo chiedere questo, che cosa hai trasferito di Tommaso a Tageshi e che cosa a Tommaso piacerebbe avere di Tageshi come caratteristica? Piacerebbe parlare giapponale come un nativo diciamo, ma in realtà non tanto, di mio solo Nishida è nato un po' da un misto, poi ovviamente si è molto evoluto il personaggio, a parte un'idea di partenza dall'idea di un ex collega che si chiamava Nishida e con cui una persona più grande sui 50 anni, con cui alcuni ex colleghi più giovani della mia età prendevamo diciamo in giro bonariamente perché questo veniva sempre in ufficio, lavorava 15 ore al giorno, anche con la mascherina che all'epoca era un'opzione avere, nel senso perché stava male, poi ogni tanto arrivava un'email, dicevano che stava in ospedale e noi avevamo creato una sorta di personaggio leggendario che beveva sempre il caffè Boss e insomma qualcuno, non so perché, uno di questi miei amici, una volta ha detto che somigliava a Tommy Jones, che ovviamente era molto, un gioconese qualsiasi, che Tommy Jones è il marchio del boss, diciamo uno dei sponsor del marchio Boss e allora ha detto, abbiamo creato questo personaggio che ha un'uscita, così un po' e lo faccio diventare effettivamente un ispettore così, un po' senza macchia e senza paura, poi il fatto di essere un mezzo sangue, c'è tutto le caratteristiche fisiche e tutto il resto ovviamente è pura fantasia. Di me non è, non credo che abbia tanto, a parte quello che detesta la parola di origine straniere usata impropriamente al giorno d'oggi, che quella è una cosa che anche io non so un supporto, soprattutto in giapponese, anche se ovviamente la tendenza c'è anche in italiano oggi, ma in giapponese è molto molto di più. Quello è, beh sì, non penso più di me, più di tanto o non tanto, a lui è molto alto, però sì, queste cose è così. Va bene. Nasce ad Osaka, giusto? Cioè nel senso che lui è stato a Tokyo, il padre è di Ose, il padre era di Ose che si è trasferito, infatti no, lui è trasferito, ecco qui. Si è trasferito e ha conosciuto la madre a Tokyo, insomma. Ad un certo punto tu racconti un po' delle differenze tra le due città, ma esiste un sud e un nord anche in Giappone? Sì, siccome no, il Giappone è un'isola, insomma, un'arcipela, o l'unico. Culturale, Tomaso, culturale, nel senso che... Culturale, sì, 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 nel senso che è abbastanza nota come cosa per chi vive qua. A volte ho sentito alcuni italiani fare il tipico paragone, paragonare un po' a Tokyo, a Milano e Osaka, a Roma, in un certo senso, per dire, perché... No, per carità, senza nessuna offesa per Milano e Sicilia, che conosco di tanti molto simpatici, ma perché di solito la tendenza è che si tende appena a pensare un po' più su a nord, le persone sono un po' più fredde, più chiuse, meno espansive, no? Mentre a sud tendono a essere un po' più aperte, più... sì, più espansive, più calorose e questo è abbastanza vero anche in Giappone. Poi io ho vissuto quasi sempre, cioè, praticamente a Tokyo e dintorni, e sempre, diciamo, poi il nord in realtà c'è anche tanto, ma c'è fino a Hokkaido, insomma, le province del nord, fino a su, però effettivamente le volte che sono stato un po' più a sud, tipo a Osaka, a Kyoto, nel Kansai, in questa zona là, si sente che le persone tendono a essere un po' più schiette, un po' più aperte, un po' a Tokyo tendono un po' a farsi tutti i fatti propri, non... nessuno magari rivolge la parola se non è strettamente necessario, magari nel tempo, che ne so, uno che ti fiera, capito, per dire. Quindi, sì, quella differenza un po' c'è, anche tra il Giappone si dice questa cosa, ecco, questa... si parla di queste differenze. Forse è un po' una cosa universale, quindi, certo, un po' di sale. Va bene, torniamo sulla scena del delitto, abbiamo appunto questo omicidio realizzato con questo ombrello, scusa e getta, molto comune, come hai detto tu, che ha due segni particolari, un cerchietto orso dipinto, ma anche un'impronta, un'impronta che, insomma, nessuno si aspettava di trovare su questo ombrello, è l'impronta dell'imperatore. E Tageshi si trova di fronte a questo mistero, insomma, com'è arrivata l'impronta dell'imperatore su questo ombrello, che giro ha fatto questo ombrello, come dicevi tu, passa di mano in mano. Allora Tageshi deve andare a ricostruire tutti i passaggi di questo ombrello e nel ricostruirlo andiamo a scoprire, ci fai scoprire le vite di nove persone, se non ho contato male, di queste persone che hanno due cose in comune, oltre ad aver fatto un pezzo di strada con l'ombrello, hanno anche in comune, a mio parere, la loro solitudine. Tu poni molto l'accento sulla loro solitudine e in generale sulla solitudine di Tokyo, addirittura parli di Tokyo come la capitale delle anime solitari, citi questa frase nel tuo romanzo. E ti volevo chiedere perché questo accento sulla solitudine e soprattutto se nei giri che tu hai fatto nei vari paesi che hai visitato è una cosa che trovi comune oppure è una cosa caratteristica della città di Tokyo? Allora, sicuramente Tokyo, il fatto di lavorare alla capitale delle anime solitarie è sicuramente una cosa basata su esperienza personale, non vuol dire assolutamente, non è una verità assoluta perché poi si tratta di sensazioni, di modi di vivere le cose, di percepire alcuni sentimenti. Sicuramente Tokyo è una città particolare nel senso che c'è molta, secondo me, solitudine perché si tende, insomma il fatto che c'è molta gente, soprattutto parla di giovani magari tra i 20-30 anni che spuntano su, pensano alla loro carriera, vivono appartamenti molto piccoli, stanno tutto il giorno in azienda, lavorano, fino a mezzanotte torno in casa, alle sei sono di nuovo in treno per andare al lavoro. Quindi c'è tutta una frenesia puntata molto sul lavoro, sul lavoro principalmente e poi alla fine dei conti almeno a me, molte persone, mi sembra sempre ci sia una sorta di solitudine di fondo che accompagna tutti, che voglio dire non è affatto necessariamente una cosa negativa, perché poi ognuno se la vive come vuole, però delle tante persone che ho conosciuto ho visto, per esempio, c'è un modo molto diverso di dire i rapporti familiari, cioè tutte le persone che ho conosciuto con cui ho avuto un po' di rapporto, mi chiedono, ah ma che senti i tuoi genitori tutti i giorni? No, non li sento tutti i giorni, però magari una volta a settimana, due volte a settimana, può capitare, ci si telefona, poi oggi con WhatsApp, insomma, è molto semplice, quindi non è molto diverso da essere in Italia per farti una telefonata, insomma. Però io conosco tanta gente che ho conosciuto e i genitori magari non li sente per mesi, in senso dopo un po' si si separa molto presto, ognuno va per la sua strada, dipende sempre dalle persone, insomma, ci sono casi e casi, però io non conoscevi tanti che magari non... ma come sta tua madre? Chi ha, se non la sentono magari da sei mesi, in senso così, o comunque non ci hanno quel rapporto affettivo che magari tendiamo a avere noi, più quel legame forte con la famiglia, eccetera, che ripeto, dipende sempre dai casisti, che parlo in linea generale delle varie esperienze che ho fatto e persone che ho conosciuto. E quindi è anche tra di loro, in amicizia, parlando con le persone mi sono reso conto che anche l'amicizia, il modo in cui la vivono, può essere sì un'amicizia molto forte e profonda in alcuni casi, ma poi c'è sempre una sorta di muro che non scavalcano mai, che per esempio di alcune cose loro non ne parlano. Noi magari con una persona con cui siamo molto in confidenza, famosamente ti puoi parlare di tutto, no? Perché effettivamente di tutto, vuol dire di tutto, se no che ce la fanno di qualsiasi cosa. Magari i problemi, cose profonde che hai, i dubbi, però invece spesso mi è capito di parlare con delle persone dicendo, ma come, magari di cose, ecco, di argomenti un po' delicati, dicono, vabbè, ma ce l'avranno, mi hai parlato con la tua amica, con il tuo amico? Dici, no, eh no, di queste cose, no? Come no? E allora è quasi il contrario, a volte sembra quasi che appunto mi è capito di parlare con persone che conoscevo poco, su cui magari mi confidavano qualcosa e poi dice, no, ma il mio amico non gli ha mai detto a questa cosa, perché a volte è più facile dire alcune cose non conosciuto, tanto poi non lo vedi più e sono già aperto. Però questa cosa è un po' strana, mi ha sempre fatto pensare, perché dice, vabbè, ma che ce l'ha a fare? E quindi mi è sempre dato l'idea che effettivamente molte persone poi, tutto sommato, tendono a stare un po' sulle proprie, insomma, per conto loro, sono abbastanza chiusi, è notoriamente difficile instaurare un rapporto profondo con una persona in Giappone di... si può per carità rapporti romantici, magari un romanzo, magari ci sono tante coppie che si sposano, miste, eccetera. Però con una persona singola così particolare, sì, e magari perché c'è un rapporto sentimentale, affettivo, quindi vuoi, non vuoi, insomma, si va più a fondo. Anche se ho conosciuto coppie, mi sembra, non ho mai capito di che parlo, di che si possano parlare. Però, in direi massimi, conosco tante io per prima persona e anche altri, non posso dire di avere così tanti amici giapponesi che proprio profondi, e nonostante siano tanti anni che vivo qua, ovviamente ne conosco anche amici, eccetera, ma tutto sommato alla fine gli amici più profondi, cioè le amicizie più profonde che ho fatto sono o con italiani o con strani, non giapponesi, stranieri, francesi, finlandesi, eccetera, eccetera. Però, e anche tra gli tanti stranieri che conosco e vieno qua, la stessa cosa, sono pochissimi quelli che ho sentito mai dire avere amicizie profonde con il Giappone. È un po' sicuramente la differenza culturale, alcune cose, si tende più a andare con i propri simili, no? È più che più, però pure quello fa un po' pensare evidentemente c'è un modo diverso di vivere proprio certe cose. Forse un po' divagato, non so. No, no, ma è perfetto, nel senso che vorremmo anche raccontare un po' usi, costumi, tradizioni, e proprio per questo ti chiedo, quanto è stato facile per te, o quanto è stato difficile per te, come dire, crearti uno spazio all'interno di una cultura così come l'hai un po' raccontata? Allora, è una bella domanda, nel senso che per me è un'esperienza particolare, credo che possa essere così per altre persone, ma è un po' paradossale, perché è una specie di curva, che però non è monotona, non è sempre, dicendo, sai, più il tempo passa, più uno si abito. È un po' come se all'inizio c'è una crescita un po' esponenziale, dici, ah, mi sono già abito benissimo in Giappone, sto bene, tutto, è sempre, comunque le persone tendono ad essere gentili, aiutarti se è un problema, che bello, che bello. Poi c'è una sorta di stabilizzazione, poi c'è un crollo, dove uno si rende conto di tante cose che non vedevi, prima, perché era solo una facciata, tutto quello che hai visto prima, è quello che loro ti vogliono far vedere. Poi, più resti, più rimani, più vuoi, non vuoi, ti rendi conto di quello che c'è dietro, perché alla fine, bene o male, certe cose vengono fuori, certe cose aumentano, quindi ci sorgi che alcuni tipi di gentilezza, magari non sono propriamente spontanei, ma sono più, perché, non so, sfrutto, cioè, conseguenza di un certo tipo di educazione, perché gli dicono, tu devi fare così e fai così, che per carità va benissimo, perché se il così vuol dire essere gentili, comportarsi bene in alcune situazioni, per carità benissimo, però c'è comunque una differenza quando un comportamento, la gentilezza è spontanea, nasce dal profondo, perché si è ricevuto un terzo tipo di educazione verso la gentilezza, o quando la gentilezza è frutto di, semplicemente di di un'istruzione, cioè, situazione A ti devi comportare così, situazione B ti devi comportare così, che poi ripeto, comportarsi in maniera magari gentile, educata, nel rispetto di quella situazione, però poi non mi sembra a volte che non ci sia uno sviluppo appunto naturale di questa gentilezza, per cui lo puoi poi lo puoi adattare a qualsiasi situazione, per cui vedete le cose a volte contrastanti che ti sembra, come sono tanto gentili i giapponesi in alcune situazioni, poi in altre ti sembrano i peggiori egoisti del pianeta, perché magari non è la situazione standard, omologata, per cui sono stati educati in un certo modo, e la dici, ma com'è possibile che fai così in quella situazione, in quest'altra invece sembri appunto una persona molto egoista, che si fa i fatti propri, e quindi quando uno comincia a realizzare queste cose, comincia a vedere tutti un po' anche i lati negativi, alcune cose che non sono proprio così rose e fiori come uno si è immaginato all'inizio, e qui c'è un po' questo crollo, poi uno comincia ad accettare tutte le cose, mette insieme, ok, capisci, è così che funziona, così funziona, risali verso una specie di appunto accettazione della globalità della cosa, appunto nella sua interezza, che è però molto più, come dire, livellata rispetto all'inizio, cioè questa è molto comune tra le persone che vengono in giappone sei mesi, un anno, innamorarti di un paese perfetto, infatti spesso si vede anche nella differenza delle persone che magari sono state per tra virgolette poco tempo, sei mesi, un anno, un anno, che sono andate poi via per qualche motivo e si sono tenute tutta quella bellezza, tutte le soluzioni, perché non sono mai alcuni, non siamo mai stati abbastanza da andare un po' da sfondo e vedere tutte queste altre cose. E' interessante quindi, appunto, c'è un'evoluzione abbastanza discontinua, secondo me, di come ci si integra in un certo senso di società, che si può essere tratti in inganno all'inizio da molte cose, poi magari sono solo io, però... Parliamo della tua esperienza. Torniamo al nostro ombrello, hai detto prima anche tu che il romanzo ha quasi una circolarità, infatti i vari passaggi dell'ombrello sono armonici, tu hai detto circolare, io ho trovato più di una volta questa parola che secondo me è una parola chiave, armonia, quasi davvero si traccia un disegno armonico musicale direi, infatti la musica è un altro filo conduttore del romanzo, non solo, tu dedichi anche il romanzo oltre che la tua famiglia a una serie di musicisti molto diversi tra di loro e i momenti salienti di riflessione del nostro ispettore sono spesso sottolineati dalla musica. Quindi ti volevo chiedere questo, l'importanza della musica nella tua vita, in quella di Tageshi e se... Io ho avuto l'impressione che il compito della musica fosse in un certo senso ristabilire un'armonia che in Giappone tu dici spesso nel libro essere solo formale e non sostanziale. Sì, la musica, come siete da quello che ho dietro, è sempre stata una parte fondamentale della mia vita, comunque sin da piccolo, quando ero piccolo avevo tre anni, mia madre mi mandò a una scuola di musica che faceva questo metodo particolare di insegnare alla scuola Yamaha, c'è ancora insomma tra l'altro, quindi è avuto un successo, dove appunto avevano questo corso particolare di musica proprio per bambini molto piccoli, di avvicinamento alla musica, non è che ha tre anni iniziato a suonare il pianoforte, però si cominciava piano piano e secondo me quello sicuramente ha lasciato un'impronta particolare, ecco, perché poi ho continuato a suonare il pianoforte fino al liceo, mi ho smesso un po' per un periodo perché era un po', come può capitare a molti, era diventato un po' un obbligo da parte dei miei genitori, una mia passione personale, quindi dopo un po' mi ero stufato, ho smesso, poi mi è riconnuta fuori la voglia, ho ricominciato, e dall'Ada che ho ricominciato un po' verso il liceo, alla metà del liceo, non ho mai smesso di suonare, ho suonato vari strumenti, ho suonato una delle varie cose, però ecco il pianoforte rimasta sempre la base e lo suono tuttora, quindi è sicuramente una componente fondamentale, la mia vita di conseguenza non poteva, cioè, mancare nel libro, ecco, non poteva, è stato proprio una cosa naturale anche perché tramite la musica è la cosa che mi fa scattare certi, non sarò senz'altro il solo, però come a tante persone credo, fa scattare determinate sensazioni, determinate emozioni e ti danno proprio l'idea, a volte proprio alcune scene, cioè mi sento una musica e mi ci immagino una scena del libro, magari la scrivo, e soprattutto la leggo molto a determinati periodi di vita, che possono essere personali o meno, comunque mi fa, dà molta ispirazione, ecco, se è la seconda del momento, del tipo di musica, eccetera, quindi secondo me è un ottimo condimento che poi, è chiaro, nella situazione ideale, proprio perfetta, un po' utopica, il lettore, quando si becchia un lettore che magari ha addirittura gli stessi gusti musicali, conosce e legge la scena, conoscendo la musica, magari riesce proprio a immergersi al 100%, ovviamente questo non è possibile per ogni lettore, però se già si riesce a trasmettere un qualcosa, poi uno, se è curioso, la canzone se la va a cercare o il pezzo musicale se lo va a sentire, oppure no, ma comunque dà comunque una certa atmosfera, ecco. Spero che tutti siano andati a sentire il concerto dell'imperatore Beethoven dopo, perché comunque, quindi, è citato, ma è un capolavoro, quindi insomma poi, magari ecco, seppure una scusa per scoprire qualcosa di nuovo, ben venga. Beh, a pensare, beh, a quello che dici, le domande che mi sono venute da farti sono tantissime, soprattutto sulla quotidianità di un italiano che da dieci anni vive, perciò immagino integrato, se non al 100% comunque integrato, mi viene da pensare, ma dove va a fare i weekend, se va a fare dei weekend? Quali sono i tre posti belli di Tokyo che, al di là di quelli che sono nelle guide, Tommaso Scotti consiglia a Francesca Paola e ad Alessandra? Cioè, scusami se esco fuori dal, però veramente sono incuriosito perché... Allora, prima cosa, io in realtà dall'anno scorso, da qualche mese, dalla stata dell'anno scorso, mi sono trasferito poco fuori Tokyo, adesso tecnicamente vivo a Kanagawa, che è la prefettura subito al sud di Tokyo, comunque ho iniziato a lavorare da casa per via del coronavirus e la mia azienda sin dall'inizio è stata molto, come dire, conservativa, quindi ho detto, beh, nel non saperne leggere e scrivere lavoriamo tutti da casa, e la cosa è andata avanti per molto tempo, quindi da Tokyo mi sono trasferito un po' fuori perché sono preso una casa molto più grande che pago la metà del prezzo di quello che pagava Tokyo, sto abbastanza vicino al mare, qua è una bella zona, per esempio, ecco, se uno parla di weekend, la cosiddetta, c'è una zona che viene chiamata Shona, che è subito, subito, che è un posto che, una serie di località lungo la costa di questa prefettura che si chiama Kanagawa, che vanno da Kamakura, Inoshino, Fujisawa, Shikasaki, sono tutte cittadine... Kamakura è molto carina perché storicamente è una cittadina molto importante, è stata, insomma, ha una storia molto particolare, è un centro storico molto carino, ed è una città che da Tokyo poi si va e si torna in un'oretta, diciamo, quindi è una delle classiche gite in giornata che si possono fare, è molto carina sicuramente, l'isola di Moshima pure è molto carina, è un isolotto verde, sempre in questa zona qui, si è separato, diciamo, dalla costa saranno un po' 500 metri, non lo so, c'è un ponte, una strada che va... è un isoletto molto verde, piena di verde, si fa tutto a piedi, piena di scale, con un tempio sulla cima, c'è un osservatorio, insomma, tutto intorno c'è il mare, poi c'è il Monte Fuggi dall'altra parte, quindi uno ha questi scorci sul Monte Fuggi, il mare in mezzo, perché c'è una specie di... la costa fa una curva, è una baia, diciamo, quindi uno vede il mare in mezzo e il Monte Fuggi dall'altra parte, che è molto suggestivo, e anche quella è una zona molto bella. Qua siamo sempre un po' fuori da Tokyo, diciamo, ma sono tutte giojiri che si possono facilmente fare da Tokyo in giornata, andando e tornando, quindi penso di essere comunque nei criteri della Tokyo. Per quanto riguarda Tokyo, ci sono tante... in proprio quanto città, ci sono tante zone particolari, a seconda dei gusti, cioè le più classiche, che pure sono citate nel libro, da Shinjuku, magari, a Kabukicho, il quartiere a luci rossa, è molto particolare, insomma, è sicuramente un posto che vale la pena andare a vedere, cioè, proprio molto caotico, molto rumoroso, pieno di attività, pieno di vita, di tutti i tipi. Il cibuio, il famoso inbocio dove passano migliaia di persone nel semaforo, pieno di gente, ci sono vari, vari, vari cose carine, cioè, c'è un bel museo Ueno, insomma, il museo nazionale Ueno, c'è un bel parco, ci sono tantissime cose da fare attorno, sicuramente nel weekend. Siano parchi, musei, che siano le proprie cittadine, in cui si andano a andare a fare shopping, a fare giri in centri. Poi, per esempio, ecco, c'è il meno conosciuto e ci sono vari, diciamo, quartieri, zone di quartiere, dove ci sono le famose, le cosiddette show time guy, che sono le, 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 delle stradine pedonali, spesso, diciamo, di solito, viene di negozi a destra e a sinistra di tutti i tipi, caffè e negozi dove si va a fare un po' una passeggiata e a fare magari delle compre o shopping, così, che sono, e alcuni quartieri, ogni quartiere, un po' ci sono vari quartieri, ognuno ha un po' al sud, va pure a gusti. Io ho vissuto per un periodo in un quartiere che si chiamava Nakano, che ha, c'è un, una specie di centro commerciale che si chiama Nakano Broadway, che è molto interessante perché ha, sono più piani in cui si può trovare di tutto, ci sono spesso delle aste per collezionisti di, di, di manga, action figures, fumetti, cose per cui chi è interessato a queste cose, la trova veramente di tutto, cioè, quella è una cosa particolare, ci sono negozi che vendono vecchi giocattoli vintage dell'epoca, show, comunque degli anni magari sessanta, un po' tipo pezzi da museo, per chi è interessato in questo collezionismo di un certo tipo, insomma, è un posto molto particolare. Scusate, vi dico solo che abbiamo cinque minuti. Pausa. Anche dieci, facciamo che sforiamo un po', ma sforiamo alla grande. No, ci tenevo a dire due cose, ce ne sarebbero tante davvero, quindi consigliamo la lettura del libro di Tommaso Scotti, l'ombrello dell'imperatore, che trovate nelle nostre biblioteche civiche e naturalmente nella libreria Tarantola di Sesto San Giovanni, che collabora con noi per questo e molti altri eventi. Ti volevo dire, questo ispettore è piaciuto tantissimo ai lettori, hai ricevuto molti commenti positivi, quindi lo rivedremo. Speriamo, sì, diciamo l'idea, l'idea c'è, qualcosa in pentola, più che in pentola stiamo mettendo insieme gli ingredienti, un'idea c'è, qualche cos'è, diciamo la macchina e in moto, ecco. Bene, bene, allora, teniamo il monitorato. Sì, sì. E poi un'altra cosa, tu nel libro parli, fai cenno all'Ikigai, che è questo metodo giapponese, questa ricerca della felicità, del senso della vita. Tu hai trovato il tuo Ikigai? Ma difficile, bisogna chiedersi anche cosa voglio dire, sarebbe tanto da parlare là, non lo so, trovato no, però io ho tante cose che mi piacciono, insomma, sono uno con tanti interessi che fa tante cose, quindi raramente mi annoio, ecco, comunque mi piace molto scoprire, mi piace studiare cose nuove, poi magari lo faccio e la passione non attecchisce, quindi dopo un po' la lascio, però intanto mi sono imparato qualcosa e passo a qualcos'altro. Alcune cose invece poi rimangono e le continuo a farle, ecco. Il mio Ikigai è un po' quello di continuare sempre un po' a migliorarmi, a scoprire cose nuove, ecco, se posso, diciamo, il giorno dopo, ogni giorno cerco di essere un po' meglio il giorno prima, perché magari ho imparato qualcosa, ho fatto qualcosa, ovviamente non ci si riesce tutti i giorni a, in questo intento, però l'idea è quella, ecco. Ti aspettavi, come dire, un successone del tuo primo libro? No, non lo so, nel senso, ci credevo perché poi, ecco, sono sempre stato convinto che fosse una buona storia, una cosa interessante, se no non l'avrei fatto, perché poi, insomma, è difficile, uno ci deve un po' credere. Poi, ecco, onestamente non so bene adesso, quanta numeri, in quanta cosa, non so esattamente come è, sto che sta andando bene, perché comunque, ricevo vari commenti positivi, di solito la gente piace, ovviamente c'è anche a chi non è piaciuto, non è che siano sempre, però nella stragrande maggioranza dei casi, anche delle recensioni che ho visto su Amazon, sui vari social, su delle varie piattaforme, sono tutte, la maggior parte sono molto buone, quindi, mi fa piacere, fa anche venire voglia di continuare a scrivere. Ce l'auguriamo anche noi, ne aspettiamo la seconda indagine dell'ispettore Tageshi. Grazie, grazie. Bene, ringraziamo, ringraziamo Tommaso che è da Tokyo, cioè da paesino a sud. Sì, 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 vicino Tokyo, insomma, si può, Tokyo è comunque 40 chilometri. 40 chilometri da Tokyo, si è collegato con noi e ci ha regalato questo momento magico, cioè tra usi e costumi, passando da questo meraviglioso romanzo giallo thriller che ci ha veramente tanto affascinato, perciò aspettiamo assolutamente il sequel, si può dire, anche con la letteratura, sì. E alla prossima, perciò ringrazio il nostro assessore che è rimasta con noi fino a questo momento, grazie Alessandra Magro. Grazie a voi. Paola, superlettrice, direttrice del nostro settore culturo e delle biblioteche, e poi Tommaso, grazie veramente di cuore. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi.